Buonasera, sono quasi le 5 e mezza e inizio questo vlog dicendovi che sto andando a una specie di cena aziendale è un brindisi, non facciamo la cena, facciamo un brindisi aziendale ogni anno adesso c'è una luce di merda in casa mia e sono in ritardo e devo correre quando sono alla festa spero, non posso fare tante riprese perché non si fa riprendere spero di riprendere al mio buffet e se riesco anche l'outfit che là c'è una luce migliore Grazie a tutti Sono dentro all'ufficio vuoto quindi devo sbrigarmi la festa è già finita, durata una mezz'oretta poi adesso vi faccio vedere l'outfit, accontentatevi perché lo devo fare senza vedermi ho questo vestito nero di Bonprix, spero si veda perché io non mi vedo ho messo le calze nere 40 denari e queste sono le zeppe che vi avevo fatto vedere nel sbrigirci cose, ho messo i tacchi e fatene da conto, un freddo pazzesco poi mi fanno male ve l'avevo fatto vedere nel My Shoes Collection, il make up ormai se n'è andato, c'è tipo il matitone rosso dell'Avon ma se n'è già andato ormai, sopra ho il dorato della palette numero 5 della Vamp con l'eyeliner e il mascara, i capelli sono normalissimi legati un po' alla bella e meglio il mio anche dorato spero si veda, il mio anellino dorato che avete già visto e gli orecchini spero si veda goccia di sole, sono le gocce solari e quindi niente questo, ah si smalto nero di Kiko e niente questo era tutto, spero si veda qualcosa perché le maniche sono così sono bellissime spero abbiate visto vi faccio una panoramica sperando che si veda tutto e poi vi farò una foto, ciao tornare a casa, tornare a casa e trovare lui sulla mia sedia ciao eh stai bene, stai comodo? mamma è stata fuori solo mezz'ora eh si fai pure è come se fosse tua grazie a tutti